La Becamp, Fari Conti con l'Ambiente, siamo con Alessandro De Pascale di Terra. Oggi abbiamo presentato il tuo libro, ne abbiamo parlato, vuoi darci qualche spunto, qualche tematica che avete affrontato proprio in relazione al tuo libro che ha comunque occupato molto tempo anche per le tematiche molto forti che tratta? Sì, diciamo che è un libro sul rapporto tra la criminalità organizzata e l'interesse che ha nei media, nelle radio e nelle tv locali. Analizza quelli che sono gli aspetti principali che hanno portato le mafie a investire e interessarsi per questo settore con dei risvolti ambientali non indifferenti, quali comunque l'elettrosmog, segnali libertà, l'occupazione dell'etere e poi ci sono quelli endemici delle mafie, quali il riciclaggio di denaro, piuttosto che l'evasione fiscale, piuttosto che la diffusione del credo camorrista se non il controllo dell'informazione. Questi diciamo sono gli aspetti principali che vengono trattati nel libro che ovviamente esamina quali sono i clan che si sono inseriti in quest'ambito e che quindi sono diventati editori sostanzialmente, se non casa discografica, se non addirittura agenzia di spettacolo, per tentare di capire a che punto di infiltrazione, il livello di infiltrazione che c'è stato in Campania e soprattutto se è riproducibile altrove. Invece il camp di oggi, quali sono le tue impressioni? Mi è sembrato davvero interessante, soprattutto perché sono state esaminate molte tematiche problematiche e non solo dalla... ovviamente non eravamo solo giornalisti e quindi c'è stata la possibilità di un confronto anche con la società civile, con il mondo delle imprese, con la comunicazione sia online che di alla carta stampata. Quindi un'esperienza interessante. Positivissima. Ti invitiamo il prossimo anno. Di sicuro, sarò sicuro dei vostri. Grazie. Grazie a tutti.